Il direttore dell'US Agropoli, Schiavo, commenta i calendari del girone d'eccellenza. Le mie impressioni sul calendario sono positive, ha detto, fermo restando, che nessuna delle partite sarà semplice. Sono contento del sorteggio perché iniziamo sicuramente in casa. Sulle squadre forti sulla carta possono dire che potrebbe essere positivo affrontarle in trasferta all'andata e in casa al ritorno, su un campo grande che conosciamo bene. Non sarà semplice affrontare gli incroci ravvicinati con Scafatese, Castel San Giorgio e Angri. Dovremo cercare di limitare i danni ed uscire bene da quelle tre gare significherebbe sicuramente tanto. Sulla gara con il Giffoni 6 Casali posso dire che la squadra ha fatto bene contro una squadra di tutto rispetto in promozione. Primo tempo ottimo con meccanismi che iniziano a vedersi un po' in tutti i reparti. L'intesa sul campo migliora ed il 4-3-3 di mister Cianfrone sembra sempre più adatto a questa squadra. Bene, bacio Terracino a sinistra, ragazzo tecnico e veloce, bene Vitelli a destra e Capitan Margiotta al centro. Il 3-0 del primo tempo, la doppietta del capitano con gol su punizione e la rete a pallonetto di Vitelli ha convinto tutti. Ottima la prova anche degli under messi in campo tra primo e secondo tempo. La squadra è ancora in rodaggio ma per ora siamo soddisfatti. Sul mercato rimaniamo sempre attenti e per noi non è chiuso. Il presidente Infante vorrebbe fare un regalo ulteriore al mister e alla tifoseria. Adesso testa alla Coppa per il doppio impegno di sabato e di mercoledì, poi saremo in grado di fare un piccolo bilancio. Per quanto riguarda la prossima partita dell'US Agropoli, saranno 100 i biglietti del settore ospiti destinati ai tifosi dell'Agropoli in vista della sfida di Coppa Italia contro la Calpazio di sabato 4 settembre alle ore 17. Per acquistare i tagliandi i tifosi dei delfini potranno recarsi semplicemente all'ingresso del settore dedicato dove ci sarà il botteghino.